eccoci qua buona giornata a tutti buon lunedì a tutti buon settembre a tutti anche se settembre anche ieri era settembre però oggi lunedì 2 settembre proprio l'apoteosi del non voglio dire della fine dell'estate però so stiamo andando verso la fine di una stagione meravigliosa detto questo tornando a noi benvenuto a tutti ben ritrovato a tutti ieri avete visto dal franchi l'analisi della partita è sempre poi molto bello fare onestamente commentare una partita dopo la partita dallo stadio con lo stadio praticamente deserto e c'è una magia particolare a mente fredda allora partiamo da gudmunson ieri più o meno intorno a mezzanotte chi ci segue tra labaro viola il sito e le pagine social di passione fiorentina anzi seguiteci sia sul labaro sul sito che dalle otto del mattino fino a luna notizie su notizie rassegna stampa interviste quindi seguitici sul labaro che il nostro sito di riferimento è la nostra testata ieri su pubblicato intorno più o meno a mezzanotte l'ho messo anche sul passione fiorentina la situazione allora com'è la situazione è arrivato a firenze con un problema al polpaccio e in realtà da quanto ho capito al genoa è un problema che è stato un po sottovalutato anche perché lui voleva andare via non si allenava la situazione era un po così è come se al di là delle chiacchiere che ci hanno raccontato dal fronte genoa loro si aspettava da un momento all'altro che lui potesse andare via quindi non è stato nemmeno curato come doveva essere curato quindi gudmunson lui ha detto io spero di esserci spero di recuperare prima della sosta quindi diciamo così per un cameo per fiorentina monza questo non c'è stato la verità su gudmunson è che ad oggi il calciatore non si è mai allenato con il resto della squadra mai mai allenato con il resto della squadra mai allenato in gruppo paladino praticamente l'ha visto solo nei corridoi del viva park mai sul campo in realtà in questo momento che vi sto parlando vi sto parlando alle 15 e 22 del 2 settembre la la situazione è che non si sa nemmeno quando sono realmente può tornare in gruppo e quindi vederlo a bergamo forse potrebbe essere forse potrebbe essere ci auguriamo di no ci auguriamo che lui possa tornare e a me mi viene qualche vibes di mario gomez che mario comezza arriva l'entusiasmo pazzesco colpo straordinario gioca tre partite si fa male e poi fortuno che doveva farlo sta fuori un mese e un mese e mezzo praticamente è durato quattro cinque sei mesi la zampaduca eccetera eccetera chi chi ha vissuto quella stagione 2013 2014 sa si ricorda di quello di quello di cui sto parlando poi non aiuta non aiuta assolutamente da questo punto di vista il fatto che la Fiorentina non faccia contatti quello che io vi sto dicendo adesso è perché finita la conferenza stampa ho avuto modo di ascoltare paladino su questa situazione a telecamere e a microfoni spenti io penso che i tifosi della Fiorentina meritano meritino un po' di chiarezza su questo è costato 28 milioni di euro costerà 28 milioni di euro perché è un obbligo di riscatto è il calciatore più forte dirci cosa ha questo ragazzo che tempi di recupero ci sono credo credo che non sia crimine verso l'umanità ecco a volte ci si nasconde dietro la privacy come se dire che un calciatore c'ha un problema al polpaccio piuttosto che al tallone piuttosto che al ginocchio piuttosto che alla coscia stai violando la privacy di un calcio è un calciatore quindi la privacy di un calciatore conto è andare a dire dove abita con chi abita cosa fa nel suo tempo libero conto è dire un infortunio di un atleta mi sembra ma ora stiamo parlando della fiorentina perché noi ci occupiamo della fiorentina anche altre squadre hanno adottato questa linea qui non tutte grazie a dio cioè come se non si può dire un infortunio di un calciatore perché sta fuori quando rientra fare una mezza di anni così e fare una mezza cioè mi sembra questa una follia una follia del del 2024 prima non era così oggi è così ma non per accontentare Flavio perché alla fine Flavio sostanzialmente si informa grazie a dio un po' di contatti ce li abbiamo ci possiamo arrivare alla verità ma il tifoso perché lo deve sapere tramite Flavio perché il tifoso lo deve sapere tramite Flavio passione fiorentina o Labaro quando torna Gudmundson se Gudmundson si allena se Gudmundson non si allena non ce lo sanno di loro io ma ripeto è un qualcosa che non è contro la fiorentina è proprio il sistema che oggi sembra che dire che un calciatore ha un problema al polpaccio stai violando la privacy ragazzo non mi pare così penso che i tifosi e gli appassionati perché non è che questa notizia interessa solo ai tifosi della fiorentina anche tutti gli appassionati di calcio sia secondo me una forma di rispetto dire signore il calciatore ha questo problema il questa è la diagnosi medica questo è il recupero questo è quando il calciatore potrà tornare a ad allenarsi a pieno ritmo sembra che in questo momento abbia detto chissà la ricetta per andare sulla luna con un aquilone no ho detto una roba molto semplice ma ripeto la situazione di Gudmundson ad oggi è questa non si allena Paladino non l'ha mai avuto Paladino non sa quando ce l'avrà immaginarlo in campo a Atalanta Fiorentina il quindici di settembre alle ore quindici ti chiamo domenica alle quindici questo momento è molto molto difficile aspettiamo che qualcuno forse magari non avviene ci dica qualcosa in più se no dobbiamo aspettare una conferenza stampa di Paladino che non c'è che non ci sarà perché ormai speriamo che questo anche questo possa cambiare in una conferenza stampa qualcuno gli faccia domande lui ci possa dire qualcosa in più se no siamo qui e poi posso iniziare le speculazioni perché tutto questo cosa porta porta le speculazioni perché così uno può dire secondo me non gioca per il processo secondo me non gioca perché ha la pubalgia secondo me non gioca perché ci nascondono qualcosa cioè a volte non si capisce che la mancanza di chiarezza porta confusione e porta speculazione perché adesso basta leggere i social ognuno dice perché anche nel suo percorso di recupero che immaginiamo che stia facendo un percorso di recupero la fiorentina non ci mostra un video non ci mostra immagini non ci dà una notizia allora uno è normale e poi tra virgolette si sente libero di dire quello che gli pare perché quando non c'è chiarezza pare tutto uno può anche dire se non è goodman in questo momento al viola park nemmeno ci sta andando perché ha ha litigato con paladino sto sparando uno lo dice dimostrami che non è vero inizia inizia a valer tutto inizia a valer tutto questo secondo me ripeto comunicato il calciatore ha questo problema diagnosi medica e questa tempi di recupero e questo tornerà a pieno ritmo in questa data qui fai un favore a chi ai tifosi agli appassionati a chi ha gioito dell'arrivo di gutman e penso che si faccia una buona comunicazione se fai una buona comunicazione fai chiarezza fai chiarezza tutto regolare la gente lo sa e serena e come quando la gente chiedeva a me sul centro avanti ma la fiorentina prenderà un centro avanti gli ho dovuto spiegare io ai tifosi della fiorentina a chi a chi ci segue a chi mi segue che la fiorentina preferiva c'è per paladino c'è ken e i sostituti di di ken per paladino sono bel tranne qua me ho dovuto spiegare io la fiorentina perché ai tifosi della fiorentina ma chi ci segue se chi ci segue il motivo per cui milenkovic è andato via c'è per una questione di viaggio c'è molto spesso la comunicazione spetta la società gutman è un giocatore eccezionale un colpo meraviglioso perché non bisogna dire la verità alle persone bisogna aspettare che paladino parli a microfoni spenti e quindi poi bisogna dirlo noi che poi magari fra tre giorni ce lo auguriamo gutman torna ad allenarsi flavio sei un cazzaro tu ci avevi detto quello quando è tutto così è tutto così comunque questo è un video proprio per spiegare la situazione gutman il ragazzo tra l'altro quando incontro tipo la fiorentina mi mi dicono e mi raccontano che di una gentilezza ed è di una dolcezza pazzesca eh disponibilissima foto e video e qualsiasi tipo quindi è un ragazzo che si sta immergendo nel miglior modo possibile nell'ambiente firenze nell'ambiente fiorentina eh mi dicono che sia voglioso non vede l'ora di ritornare di dimostrare il suo valore veramente lui voleva venire qua a gennaio non gli hanno permesso quindi veramente ragazzo non vede l'ora eh la situazione in questo momento è questa diciamo che settembre la fiorentina a settembre giocherà solo le partite di campionato perché ricordiamolo la conference ha cambiato sistema e quindi ci saranno due partite al mese a partire da ottobre quindi si giocano due partite a novembre e due partite a dicembre questo permette eh di avere un settembre molto regolare per palladino per la squadra di allenarsi di recuperare che deve recuperare quindi insomma ci auguriamo che possiamo goderci nel minor tempo possibile anche perché palladino la fiorentina i tifosi ne hanno terribilmente bisogno poi nei prossimi giorni insomma eh affronteremo tante altre questioni questa sera diretta dalle 21 su passione fiorentina non solo le dirette ci sono ci saranno sempre lunedì martedì eh giovedì sempre la sera il pomeriggio di di venerdì ma poi sul pomeriggio di venerdì vi aggiorno man mano e come vi aggiornerò man mano sugli abbonamenti proprio qui sul canale youtube che li stiamo settando nel miglior modo possibile un abbraccio iscrivetevi al Fanta Passione Fiorentina un gioco meraviglioso abbiamo messo su per tutti i tifosi della Fiorentina premi speciali abbiamo fatto anche il video eh maglie originali abbonamenti in curva abbonamenti in tribuna un Mac l'ultimo modello di Mac l'ultimo modello di iPhone e pass VIP insomma Fanta Passione Fiorentina è un gioco veramente veramente meraviglioso uno si diverte ogni settimana chi fa il punteggio migliore può vincere la maglia originale della Fiorentina personalizzata quella maglia di Dodò quella maglia di Guzzon quella maglia di di Gossens c'è la possibilità di vincere questa maglia quindi siamo siamo contenti di aver dato vita a questo gioco che è molto 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 bello un abbraccio sempre Forza Viola e ci vediamo nelle live e qui sul canale youtube